Per rimuovere un'unità di memoria Flash M.2 installata nell'unità, rimuovere prima il pannello laterale sinistro e le eventuali schede grafiche lunghe installate nell'unità. Svitare la vite Phillips numero uno che fissa l'unità M.2 al case. La scheda potrà ora essere estratta. Estrarre l'unità M.2 dal socket della scheda madre. L'unità M.2 ha una tacca spostata rispetto al centro, corrispondente a una sporgenza presente nel socket della scheda madre. Per sostituire l'unità M.2, inclinare l'unità nel socket della scheda madre con un angolo di 30 gradi e premere verso il basso. Tenetela premuta mentre riabitate la vite Phillips numero uno. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.